No Elena aspetta, io non ho nessuna intenzione di sottrarmi ad un'accusa così grave, l'amicizia è amicizia e io sento che in questo momento il Cavaliere ha bisogno di una parola amica che solo io gli posso dare, per arrivare a questo vuol dire che il Cavaliere giustamente o ingiustamente ha sofferto, perché chissà da quanto tempo si è tenuto in corpo il rospo per quanto mi riguarda io il dovere di dire che ho stimato questa famiglia come stimola mia e che ho voluto bene al Cavaliere come a Donna Rosa con lo stesso sentimento rispettoso che mi lega a tutti e due. Cavaliere, se volete credere a queste mie parole che sono sincere e vengono dal cuore, bene, altrimenti che posso farci? Non mi resta altro che chiedervi scusa per l'equivoco che avete preso e che io involontariamente avrò provocato. Elena, adesso possiamo anche andare.